buongiorno sono Mauro consulente commerciale Dacia di gruppo Carmeli e oggi vi presento Nova Sandero Stepway Comfort con motore benzina TCE da 90 cavalli. Nova Sandero è stata interamente rivisitata sia all'interno che all'esterno. Per quanto riguarda l'esterno troviamo i nuovi fari led con firma luminosa Dacia hip shape sia all'anteriore che sul posteriore. Nuove linee esterne, nuovi interni più ergonomici, nuovi materiali per i rivestimenti della plancia e delle selerie. Il volume del bagagliaio è aumentato fino a 328 litri e sono stati inseriti molti vanni portoggetti per un totale di 21 litri. Nuova Sandero si arricchisce di nuovi equipaggiamenti più moderni tra quali il tetto apribile elettrico, keyless, servosterzo elettrico, il freno di stazionamento elettronico e i nuovi sensori parcheggio anteriori e posteriori. Inoltre i nuovi ADAS prevedono la frenata automatica d'emergenza, il sensore angolo cieco, airbag a tendina per i passeggeri posteriori e il pulsante e call per la chiamata d'emergenza. Se vi è piaciuto il video lasciate un commento qui sotto o chiamateci allo 030 77 24 011. I nostri consulenti saranno a vostra disposizione.